Bentrovati! Oggi siamo nella città di Mister Volare, Domenico Murugno, a Polignano a Mare. Ti proponiamo l'acquisto di una affascinante casa indipendente, situata sulla splendida fascia costiera di largo grottardito. Questa proprietà è veramente unica nel suo genere. Il piano terra accoglie una confortevole zona giorno, con angolo cottura, caratterizzata da suggestive volte a botte in tufo a vista. La predisposizione per un caminetto con canna fumaria già presente rende l'atmosfera ancora più accogliente, mentre il bagno di servizio aggiunge praticità. Al primo piano la zona notte offre un'ampia camera da letto, con balcone e vista mare mozzafiato. Un secondo vano ideale come cameretta o studio e un ulteriore bagno completano questa spaziosa aria. Il cucinino con accesso al terrazzino a livello offre un luogo perfetto per godere di una vista panoramica sul mare. La struttura è stata completamente ristrutturata e la sua flessibilità consente di dividerla in due piccole unità ideali per casa e vacanza. Non lasciarti sfuggire è l'opportunità di questa casa unica con un mix di charme tradizionale e comfort moderno. Contattaci ora! Ciao, alla prossima! Ciao, alla prossima!